L'otta e prevenzione degli incendi boschivi in questa estate calda scendono in campo a tutela dell'ambiente le guardie ambientali volontarie dell'Associazione Europea Operatori di Polizia Sezione di Salerno, con sede a Sant'Arsenio, che assicurano controlli su tutto il territorio a sostegno delle attività anche delle forze dell'ordine e delle amministrazioni locali per la prevenzione del contrasto degli incendi. L'organizzazione di volontariato impegnata in attività di prevenzione dell'inquinamento ambientale ha istituito il nuovo servizio di supporto con i volontari che si occuperanno di controllare il territorio per verificare l'esistenza di possibili incendi partendo dalla bruciatura di residui vegetali. Altra importante novità introdotta dalla sezione salernitana dell'Associazione presieduta da Giovanni Donza, sita a Sant'Arsenio, è l'istituzione di uno sportello amico, a disposizione di tutti i cittadini che vogliano ricevere aggiornamenti e informazioni sulla legislazione vigente, sulle ordinanze sindacali e altri provvedimenti emanati dalle istituzioni a regolamentazione e tutela dell'ambiente dall'inquinamento, delle responsabilità derivanti dai comportamenti assunti a danno delle risorse naturali, degli animali d'affezione e quant'altro. Invito, dichiara il Presidente Giovanni Donza, tutte le associazioni anche non riconosciute sul territorio provinciale a collaborare con la nostra associazione integrando le proprie attività ed iniziative al fine di aiutare a debellare o a contenere i danni e i pericoli derivanti dai incendi e dall'inquinamento ambientale. Un appello che rivolge anche ai cittadini invitandoli ad essere vigili nel controllo del territorio e a non ignorare possibili situazioni di pericolo. Queste iniziative, dichiara Giovanni Donza ed altri servizi istituzionali che si andranno ad offrire ai cittadini e agli enti, sono buone motivazioni per aprire nuove sedi autonome o di staccamenti sul territorio provinciale. Desidero ricordare, conclude, che chi fa parte dell'AEOP ODIV opera per il bene comune in modo libero, autonomo e padrone delle proprie azioni, certo che i risultati raggiunti vengano gestiti dal territorio. Grazie. Grazie.